Con un voto storico dopo ore di dibattito e dopo il sì della Camera, il Senato argentino ha approvato in via definitiva la legge che autorizza l'interruzione volontaria di gravidanza. 38 voti favorevoli, 29 i contrari. L'Argentina, paese del Papa, è il primo grande Stato sudamericano ad autorizzare l'aborto legale, che diventa possibile entro la quattordicesima settimana di gravidanza. Oggi siamo una società migliore, ha commentato dopo il voto il presidente argentino Alberto Fernandez, l'aborto sicuro, legale e gratuito è legge, come avevo promesso in campagna elettorale. Dietro il sì c'è il lavoro in defesso di attivisti e legislatori, intensificato negli ultimi due anni, dopo che, in Senato nel 2018, la legge sull'aborto non era passata per appena sette voti. Questa volta alcune modifiche al testo, inclusa l'introduzione dell'obiezione di coscienza per i medici e l'appoggio della coalizione di governo, hanno aperto la strada al voto favorevole. In America Latina l'interruzione volontaria di gravidanza è legale solo in Uruguay, Guyana, Cuba e città del Messico. Centinaia di attiviste radunate fuori al Senato argentino in attesa del voto hanno festeggiato, saputa la notizia.